Eco-sostenibilità e digitalizzazione stanno trasformando il mercato del lavoro. Entro i prossimi 5 anni si avrà bisogno di 1,6 milioni di lavoratori che possano sviluppare soluzioni green e di un altro milione e mezzo di lavoratori in grado di sapersi destreggiare con internet. Pare al 56% delle opportunità di lavoro che si creeranno da qui al 2024, secondo le previsioni a medio termine di Union Camere. La pandemia da Covid-19 è stata un potente volanno del processo di digitalizzazione con smart working, didattica a distanza e commercio online. E nei prossimi anni un ulteriore impulso in questa direzione potrebbe venire dagli investimenti europei legati alla Next Generation EU. Saranno infatti poco meno di 3 milioni le persone che complessivamente entreranno nel mondo del lavoro entro il 2024. Il 62% dovrà essere in possesso di competenze green. Per quasi un milione di questi profili, inoltre, le green skills saranno addirittura un fattore di rimente ai fini dell'assunzione. Competenze green che riguarderanno tutte le professioni, concentrandosi in particolare sui profili ad elevata specializzazione e tecnici, ma anche ingegneri civili, energetici e meccanici. I nuovi green jobs più richiesti? Il giurista ambientale, l'energy manager e l'informatico ambientale.